Tornano in libertà due elementi di spicco della criminalità foggiana. I giudici hanno accolto l'istanza dei legali degli imputati e hanno autorizzato la scarcerazione di Alessandro Lanza, 40 anni, elemento vicino al clan sinesi Francavilla, e Massimiliano Cassitti, entrambi arrestati nel 2013 dai carabinieri del ROS nell'ambito dell'operazione Corona, coordinata dalla Direzione Distettuale Antimafia di Bari, che portò al fermo di 23 persone coinvolte in reati di traffico di sostanze stupefacenti ed estorsioni. Il primo, 40 anni, detto bussolotto, è ritenuto vicino al clan sinesi Francavilla. Ha già scontato 5 anni e 2 mesi di detenzione della condanna ad 8 anni e 8 mesi e dovrà sottostare all'obbligo di dimora a Campomarino. Il secondo, Massimiliano Cassitti, torna in libertà dopo aver trascorso in carcere 6 anni e mezzo con l'obbligo di dimora a Foggia. Torna in carcere invece il 42enne foggiano Luigi Campanile. Dovrà scontare la pena di 3 anni e 11 mesi di reclusione poiché è riconosciuto colpevole dei reati di tentato omicidio in concorso e porto d'armi e oggetti atti ad offendere. Il fatto risale al 2014 quando Campanile accoltellò per futili motivi un giovane nigeriano. Il tribunale, in data 15 settembre, ha annullato il decreto di sospensione della carcerazione ottenuto dai legali dell'uomo e ne ha disposto l'arresto eseguito dagli agenti del gruppo dei falchi della polizia. Dopo le formalità di rito, Campanile è stato associato presso la casa circondariale di Foggia. Grazie.